Dopo il servizio è andato in onda nel telegiornale di ieri, la direzione generale dell'azienda Moscati si è attivata per risolvere il caso sollevato da Giancarlo Guzzon. Il cittadino bellinese infatti ci aveva raccontato la sua odissea nella giungla delle liste di attesa. In stand-by per un intervento chirurgico all'ernia inguinale, oltre a recatosi in ospedale per le analisi propedeutiche all'operazione, a signor Guzzon era stato riferito che l'intervento era stato sospeso, rinviato a data da destinarsi. Questo dopo nove mesi di attesa. La prenotazione era stata registrata infatti il 17 gennaio scorso e il 2 ottobre invece l'uomo si doveva operare. Tra l'altro in questo lungo periodo di stand-by, come raccontato da signor Guzzon, nessuno dall'azienda ospedaliera l'aveva contattato per comunicare che l'intervento era stato congelato. Ieri, incassata la denuncia del disservizio, la direzione generale del Moscati ha chiamato Giancarlo Guzzon mettendosi a disposizione per recuperare lo strappo e risolvere il problema. Ora toccherà l'uomo a decidere la sede per l'intervento. Guzzon, deluso dal lungo congelamento, ha dirottato la sua prenotazione presso una clinica privata. La direzione generale intanto ha promesso che lunedì spiegherà le cause che hanno provocato il disguido. Perché nove mesi di attesa? Perché nessun contatto con il cittadino per aggiornarlo sull'iter dell'operazione? E soprattutto quali sono stati i motivi che hanno portato alla sospensione e al rinvio dell'intervento chirurgico? Chico.